Eh no, veramente io sono venuto qua, vabbè. Venga con me, apro la finestra e guarda che sono dei campi dei trattori, che sono alcuni campi dei trattori, ma non li vedi tutti quei campi, tutti quei trattori! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.